Una tre giorni per parlare di politica, di quello che accadrà il 18 marzo con lo scioglimento dell'NCD che come ha spiegato il Presidente e Ministro degli Esteri Angelino Alfano non lascia ma raddoppia. Una tre giorni dedicata anche all'Abruzzo, una tre giorni che si tiene a Roccaraso non a caso per ricordare la tragedia del 18 gennaio. Non sono ancora concluse le difficoltà e noi saremo accanto all'Abruzzo e agli abruzzesi con tutte le nostre forze. Del resto i nostri parlamentari hanno dato veramente grande prova in tutta questa vicenda di essere molto vicini con il cuore ai loro concittadini e di essere loro stessi purtroppo nel dramma che tutta la popolazione ha vissuto senza che loro manifestassero alcuna distanza. Anzi, io sono testimone al Governo di quanto impegno abbiano messo per dare delle risposte pronte. Avere scelto questa scuola qui è la riconferma di quello che avevamo scelto prima del terremoto. Abbiamo voluto riportare qui i nostri amici per dire che l'Abruzzo non chiude, il turismo continua, anche la presenza istituzionale è forte qui e al tempo stesso è un segnale di forte amicizia con il cuore nei confronti dell'Abruzzo e noi questa vogliamo continuare a coltivare con tutto ciò che di profondo abbiamo nell'animo che è poi questo senso di amicizia nei confronti dell'Abruzzo che è un pezzo straordinario d'Italia che va rimesso in sesto al più presto con tutte le nostre energie e ci impegneremo in questa direzione. È arrivato il decreto sul terremoto ma le popolazioni abruzzesi chiedono ancora qualcosa in più per l'Abruzzo per far ripartire questa regione? La nostra linea sull'Abruzzo è trovare un euro in più di tutto ciò che serve, non un euro in meno ma al limite un euro in più di tutto ciò che serve. Noi siamo un grande paese, siamo una grande democrazia e siamo un paese che è in grado di affrontare anche queste difficoltà. Abbiamo dato prova in passato di avere dei casi di successo nella ricostruzione, dei casi di successo nel soccorso e noi speriamo che in questa ricostruzione possiamo esprimere il meglio di tutto ciò che la forza dello Stato può realizzare. Questa è la sfida che ci attende adesso in fase di conversione del decreto terremoto. Noi stiamo lavorando perché l'Abruzzo abbia tutte le risposte che servono per ripartire a cominciare da un allargamento del cratere nel quale i comuni che sono stati maggiormente colpiti dal sisma possano beneficiare delle misure che noi abbiamo previsto ma anche interventi che consentano di considerare la straordinaria ondata di maltempo che ci ha colpito e che possano ristorare le imprese che hanno subito danni, anche danni indiretti di tutto quello che è successo. Quindi ci aspetta un lavoro importante e intenso che noi faremo. Abbiamo spiegato bene ai nostri colleghi sia al governo sia in Parlamento qual è la straordinarietà degli eventi che ha colpito l'Abruzzo e io sono sicura che le istanze verranno accolte come è accaduto anche per le altre calamità. Chiaramente sarà un lavoro graduale nel tempo, non si potrà fare tutto subito ma noi abbiamo visto che anche per l'Aquila per esempio abbiamo iniziato con degli interventi e poi abbiamo proseguito il nostro lavoro per tutto quello che era necessario anche sperimentando le misure che abbiamo messo in atto. Così accadrà anche per questa ondata di calamità. Questa terra non è solo tragedia, non è solo terremoto o maltempo, le conseguenze che bisogna fare. Ci sarà da dare attenzione ogni giorno alle centinaia di migliaia di persone che hanno subito questi danni, però è anche ricchezza, è turismo, è qualità, è una regione che tiene sempre alta l'Italia, il valore dell'Italia nel mondo e credo che bisogna tornare a parlare dell'Abruzzo anche per queste cose. Parlando invece di questo appuntamento dal punto di vista politico possiamo dire che oggi ufficialmente si chiude l'esperienza dell'NCD? NCD non lascia ma raddoppia perché noi vogliamo raddoppiare gli sforzi per realizzare quella rappresentanza di quel popolo, dei popolari, dei liberali insomma di tutti quelli che non ci stanno ad essere alleati con gli estremisti che vogliono uscire dall'Europa come Salvini e al tempo stesso non sono di sinistra. Questa posizione è la posizione che poi si traduce in un programma molto concreto e molto forte che ha un obiettivo di rafforzare il ceto medio che si è molto indebolito, di migliorare le nostre politiche sui salari perché il ceto medio ha due grandi asset, i salari spesso dipendenti cioè che siano pubblici o privati e la proprietà della casa e su casa e salari noi imposteremo gran parte delle nostre strategie di rafforzamento del ceto medio che si è indebolito in questi lunghissimi otto anni di crisi. Senatrice abbiamo visto in platea tantissimi amministratori abruzzesi vicini al nuovo centrodestra ma anche esponenti non del centrodestra che sono venuti ad ascoltare, a sentire quello che questa mattina si è detto qui a Roccaraso. L'obiettivo è quello di creare una casa comune dei moderati in Abruzzo e in Italia ovviamente. E questa è la dimostrazione che andiamo sulla strada giusta e cioè che c'è un grande spazio che è lo spazio al centro e lo testimoniano non solo i giovani che ci sono ma anche i tanti amministratori che sono venuti da tutto l'Abruzzo. Io sono convinta che quando ci si incontra sul campo delle idee, dei valori ci sia un grande spazio e in questa scuola noi abbiamo voluto preparare i giovani e anche gli amministratori alle sfide e alla complessità che li attende, che attende tutti coloro che hanno il desiderio di occuparsi delle proprie comunità e del bene comune. E quindi questo di Roccaraso è un momento importante, è importante per il nostro partito, è importante per il futuro ma è importante anche per l'Abruzzo perché tanta gente di tutta Italia vede che la nostra regione non è una regione in ginocchio, ci sono posti come Roccaraso, belli dove c'è il sole, dove c'è la neve e dove si può venire in vacanza. Non è stata una scelta casuale quella di far svolgere questa Winter School dell'NCD qui a Roccaraso. In Abruzzo abbiamo vissuto momenti tragici, lei è stata in prima linea spesso a Penne, a Farindola, era importante far capire che questa è una regione che vuole ripartire, senatrice. Assolutamente sì, ce l'ha detto anche il Cardinale Bassetti, il motore di tutto è la speranza e noi quella speranza vogliamo tenere accesa e questo è il nostro contributo all'Abruzzo, a che possa crederci affinché questa regione possa rialzarsi e possa ripartire. Io sono contenta e anche orgogliosa che i miei amici, gli amici del mio partito abbiano deciso di venire qui e di fare qui questa iniziativa importante che ha portato in Abruzzo e a Roccaraso centinaia di persone. Possiamo dire che partono le prove generali per un nuovo centro in Italia? Partono le prove generali per capire e testimoniare che la politica può tornare ad essere la buona politica, cioè quella che mette al centro, una volta si diceva, il bene comune, l'interesse dei cittadini, che anziché urlare e descrivere l'altro come il male assoluto, si rimbocca le maniche e testimonia che si può iniziare a cambiare cambiando se stessi, che non c'è bisogno di essere estremisti o populisti o demagoghi per acquisire il consenso, ma che forse quello di cui c'è bisogno è di persone in politica che testimonino che il fare le cose concretamente e l'attenzione ai bisogni della gente sia il primo gesto di solidarietà che si può fare. L'ambizione è quella di riunire sotto un'unica casa i moderati italiani? Credo che ci sia assolutamente bisogno di un soggetto politico, di una proposta politica che torni ad essere credibile e a rappresentare la maggioranza degli italiani, partendo dalla propria storia, dai ideali, dai valori, la persona al centro, la famiglia, la libertà d'impresa, il merito, il cittadino anziché lo Stato al centro, lo Stato al servizio del cittadino. Questa è, credo, la sfida che abbiamo davanti in questi nove mesi, mi auguro che noi un passo in avanti lo vogliamo fare e speriamo che lo vogliano fare anche gli altri. Ci troviamo in un momento politico difficile ma anche ricco di opportunità e determinante per il futuro. Siamo in una fase forte di trasformazione della nostra area ma di trasformazione della politica italiana. Anche il PD è all'interno di un travaglio, lo stesso centrodestra è lacerato tra spinte populiste e lepeniste, è la parte più liberale e moderata, quindi è chiaro che in questo momento parlare di politica e di quello che sarà il futuro non è assolutamente un fuoritema ma è importante per quello che poi rappresenterà questo per il Paese, per l'Abruzzo, per tutti i nostri concittadini. A proposito di Abruzzo, cosa succederà dopo il 18 marzo in Abruzzo per il nuovo NCD o per il partito o il gruppo politico che nascerà dalle ceneri del nuovo centrodestra? Io non credo che succederà nulla, io spero che succederà, che ci allargheremo, che riusciremo a fare quello che forse fino ad oggi non abbiamo fatto a sufficienza, cioè a dialogare con altri interlocutori che anche in Abruzzo non si sentono stretti nella scelta manichea tra un centrodestra che insomma si deve ancora riconfigurare e un centrosinistra. A chi si riferisce? Ma ci sono tante persone, ci sono gruppi civici in tanti comuni, in regione stessa, ci sono alcuni consiglieri che oscillano ma non hanno una collocazione, quindi insomma noi apriamo un tavolo per tutti, questo è il senso dell'Assemblea nazionale e quello che dovremmo riportare sui territori. Dopodiché noi in Abruzzo abbiamo delle alleanze, ci siamo candidati anche nei comuni, in regione, nelle province. Però restate all'opposizione di questa maggioranza di governo regionale? Su questo per me non c'è mai stato dubbio e non c'è dubbio oggi, per chiarire io ho sempre detto io non escludo una collaborazione con la giunta regionale, noi però ci siamo candidati all'opposizione quindi perché ci sia una collaborazione ci vuole una discontinuità da parte della giunta regionale, cioè il presidente della giunta regionale deve dire che c'è un cambio di maggioranza perché in questo momento lui non è in condizione, non ha l'autosufficienza per governare e allora si può intavolare un discorso in cui noi metteremo in quel caso una piattaforma di condizioni sul tavolo. Secondo lei in questo momento D'Alfonso non è più in grado di governare la regione? Non ha più i numeri? Beh i numeri in consiglio regionale non è che me li invento io, sono precari e si sa, le difficoltà ci sono. Per me non lo dico con felicità ma è un fatto che oggi il presidente D'Alfonso è un po' accerchiato non solo dal punto di vista politico ma anche giudiziario, anche se io non do giudizi su questo. Però è chiaro che quello che voleva fare lui, ha cercato di fare lui due anni, cioè una cooptazione ad persona, non può andar bene. Noi siamo una forza politica, ci siamo candidati a sostegno del presidente Chiodi, abbiamo una posizione autonoma all'interno della minoranza, nel senso che noi su molte cose abbiamo collaborato mentre la minoranza no. Ma questo che significa? Sono i problemi dell'Abruzzo, noi non siamo contrari a delle cose giuste solo perché le fa D'Alfonso, però da qui a dire alleanza politica, un'alleanza strutturale, ce ne passa molto, per me non si è fatto nemmeno il primo passo, secondo me bisognerebbe fare un passaggio politico. Ma oggi alla vigilia comunque di un'irconfigurazione delle forze politiche e poi delle elezioni politiche che comunque a febbraio dell'anno prossimo ci saranno, io credo che le condizioni per un'alleanza strutturale con la giunta regionale siano davvero pochissime, insomma poche possibilità.